Alternativi o paralleli all'università, i corsi ITS offrono una formazione tecnica altamente specializzata e qualificata nelle aree tecnologiche e strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del paese, favorendo così subito un accesso privilegiato al mondo del lavoro. Sono ottimi finora i risultati ottenuti in termini occupazionali per i diplomati ITS e Ermete, dove oggi si è recato in visita al governatore Rotari della campagna, Costantino Astarita, a testimonianza della vicinanza del Rotari e gli istituti tecnici superiori. Noi abbiamo un progetto molto ambizioso che si chiama ULISSE 2101, giovani aiutiamoli a restare, perché mentre dopo guerra noi esportavamo lavori umili, persone che facevano lavori umili, oggi esportiamo i migliori cervelli della nostra regione e noi vogliamo fare di tutto a che questi cervelli rimangano in campagna, devono uscire, devono migliorare le loro conoscenze, ma poi devono rientrare. In quest'ottica noi abbiamo aperto uno squarcio, e per me è stata veramente una grande e gradevole sorpresa, quella degli ITS, questi istituti tecnici superiori, che sono veramente una realtà. Basti pensare che la Germania forma 900.000 persone con gli ITS, la Francia 200.000, e adesso, grazie al nostro primo ministro Draghi, che viene dalla cultura tedesca, per certi versi, gli ITS sono valorizzati. ITS, in questo caso ITS Ermete, verso il lavoro, non è assolutamente un semplice slogan? Assolutamente no. L'ITS Ermete è un ITS che tratta il problema della sostenibilità ambientale e dell'ambiente ovviamente in generale. E' partito nel 2018, quindi sono appena tre anni, l'anno scorso sono usciti i primi diplomati superiori di questa istituzione, 27 persone che hanno trovato quasi tutti già a pochi mesi di distanza dall'aver terminato questo percorso di formazione, un lavoro nell'ambito delle aziende che fanno parte del gruppo. Quindi siamo molto soddisfatti di come stanno procedendo queste attività e cercheremo anche di potenziarle, anzi sono in corso di potenziamento nel prossimo futuro, grazie ai fondi che vengono dal Migore e dalla Regione Campania. Noi abbiamo praticamente, nella prima sessione di diplomati, il 70% di occupati. E ancora non è trascorso un anno che è il tempo minimo per fare delle valutazioni. Contiamo di assumerli tutti, di farli assumere tutti.